Nuovo Somatoline Cosmetic Professional System Cosce e Fianchi. Segui il protocollo di applicazione per ottenere risultati snellenti professionali a casa tua. Bastano tre semplici fasi. Fase 0. Slapping ritmico. Non richiede l'uso di prodotti. Basta sollevare una gamba e appoggiarla su un piano. Schiaffeggiare con le mani a palmo teso la coscia dal ginocchio fino al fianco, eseguendo movimenti ritmici per 40 volte. Ripetere sull'altra gamba. Fase 1. Rubbing attivo. Rimanendo nella stessa posizione, stendere circa due o tre erogazioni di siero attivatore antistoccaggio per ogni coscia. Con movimenti alternati delle mani, appoggiare completamente il palmo con le dita tese, massaggiando lungo l'asse della coscia dal ginocchio fino al fianco e ritorno. È importante esercitare una pressione uniforme sulla cute. Ripetere lo stesso sull'altra gamba. Far asciugare. Fase 2. Absorbing circolare. Stendere una noce di crema liporiducente intensiva lungo l'asse della coscia, effettuando movimenti circolari lenti e leggeri, partendo dalle ginocchia fino al fianco. Continuare fino a completo assorbimento. Ripetere lo stesso sull'altra gamba. Una volta completati questi tre step, la seduta è conclusa. Ripetere il trattamento per almeno 15 giorni. e somatoline cosmetic funziona.